salga ma scusami se non ti conosco mi vuoi dare un passaggio però quello che era prima giù dove ti devo dare un passaggio non lo so occhio hai la cintura ho messo la cintura infatti dove vuoi andare ma non lo so fammi vedere un po' la città non saprei non sono nuova ah buono cazzo devo andare a fare gasoio cosa? dovevo andare a fare gasoio sennò è giro in città la cintura è una messa si però mi sa che ho problemi andando in macchina stavi dicendo com'è che lo vedevi il treno vedevo normale il treno no è tutto andato a scatti no era normale si tenga stretta che qua è verde si può passare lei la patente ce l'ha? no no non ancora effettivamente ma perché bisogna farla? io non c'ho una voglia aiuto infatti vedo che tu è come non l'avessi mai fatto nemmeno t'ho sentito super aspetta so che c'era si poteva arrivare aspetta si poteva arrivare da qua no? si infatti va malissimo guarda era giusto lei non sta qua 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 scendiamo scenda ma scusami ma come è tutto viola sei? allora i cartoni pego ops li vengono tirare la porta ma non ce l'ho fatto ah ma siete appena arrivati che vedo che ci sono tutti questi cartoni ma ma naturalmente mi stanno trasformare mi stanno ma che sporcizia quei vetri ma scusa ma non puoi pulire? ci sei te adesso Suga scusa venga 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 vengo qui a fare pulizie la donna delle pulizie ma figuriamoci e cosa vieni a fare qua? no no niente non voglio lo so l'hai evitato tu eh io ho chi gradini oh ma è enorme sta casa che belli sti graffiti boh il tappeto è qui perché c'era un po' di polvere come vedo mi sa che sono entrati si è vero mi sa che sono entrati qualcuno dei miei vabbè dei miei che? cosa vuol dire? eh niente amici ah sono rozzo che stupendo qua sembravamo proprio un magazzino invece è bello guarda sono a casa mia mi lavo la maglietta perché c'è caldo posso? le dispiace boh fa un po' come vuoi uh che megaschermo ma dove? qui dietro ah dai si c'è anche il banco matto in casa ah il banco matto figo ma funziona? in quella porta lì cosa che c'è il bagno? eeeh si cioè no aspetta non mi ricordo fai vedere ah c'è eh mo non so come spiegartelo c'è una scrivera con un computer ah vabbè è uno studio praticamente si si qua siamo bravi ma queste funzioni c'è una cosa da bere? eh magari si ahiù eeeh li offro un bello aperitivo ah ma sai fare anche gli aperitivi? aperta ancora qua l'aperitivo che schifo una bottiglia di acqua picciulla eh ma questa qui nasce da noi nel nei bagni ma ma mica sarà l'acqua dello sciacquone? peggio no 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 proprio delle foglie che schifo vabbè senti ma quel bar laggiù cos'è? eh quel bar laggiù è un bar ma giocate anche a poker qua che cos'è sta roba? no qua c'è come poker nudismo no poker è un poker ah strip ah vedo che tu hai già iniziato a giocare si sei spogliato eh sto perdendo con lei con te con lei io non c'ho nemmeno una carta in mano comunque vabbè ma che che lavoro fai in città? eh ehm no niente cosa faccio in città? si faccio in città i lavori al centro impiego ma scusa come fai a avere quella macchina allora? ah rendono bene finanziamento fanno il finanziamento ah fanno il finanziamento città ok aspetta un attimo mi stanno niente c'è arrivato lui eccolo calma cosa ti racconta questo ma guarda ma scusami c'è tutto questo parcheggio voglio mettere la macchina uè bello eccomi ma chi è questo tuo fratello? lui è mio fratello ma non mi aveva somigliate per niente addirittura eh no vabbè poi siamo uguali no scherzavo ma bu si dovrebbe arrivare dovrebbe arrivare dovrebbe arrivare un suo fratello adesso pure ma quanti siete in famiglia? ehm la nostra madre facciamo un lavoro un po' stava sotto i pali no 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 ma come? eh sì perché siamo ultra diversi vabbè ci sono fatti un milione cosa? no cosa? no no lei metto che devo parlare anzi io avrei anche bisogno di soldi sinceramente perché sono anche poi appena arrivata con le soldi? no dico avrei bisogno anche di soldi cioè ma l'ho detto degli amici che ci sono dei metodi abbastanza facili per ottenere diciamo così denaro facilmente non so se mi avete capito sì però che stiamo cercando di fare noi eh però cioè qualcosa saprei perché ho incontrato delle persone però adesso non so se fidarmi ecco perché poi voi avete tu per esempio Ciro hai detto che io potrei essere una poliziotta ma anche voi ma anche voi specifica cosa specifico? eh siamo tutti e due Ciro è quello il problema Ciro e Ciro vabbè comunque con me ok ok e adesso ci sarà tanta confusione in città perché io ho detto che lei è una poliziotta perché mi ha fermato subito quindi pensa che era un poliziotta no ma figurate ma che poliziotta c'è una poliziotta così una poliziotta così io farei subito così mi farei arrestare eh infatti ehm infatti una polizia potrebbe essere Ciro cosa fa Ciro e quindi adesso stiamo parlando Ciro e Ciro eh no vabbè sì mi hanno parlato di alcune persone che potrebbero eventualmente farmi un lavoro così come dire non tanto pulito non tanto legale ecco noi siamo con posta ma non è che ha detto porta altri polli in giro cioè ci vuole la gente sveglia guarda più si sveglia così non lo so perché comunque loro hanno detto di stare attenta perché questa persona che vi dovrei presentare è una persona molto importante in città però non è che tutti possono venire a conoscenza di questa persona eh vabbè questa persona ce la possiamo anche comprare comprare in che senso scusa no niente e vabbè non ce la può fare conoscere questa persona eh devo un po' guardare a fondo non saprei cioè chi mi dice a me che voi non siete o poliziotti o che magari poliziotti noi ecco è entrato il mio fratello cazzo e non lo so pure magari è andato a spifferare poi alla polizia e non fate il mio nome persino magari sediti in macchina sediti in macchina chi è che si deve prendere sì sì però hanno messo i vestiti più fighi per i viola però secondo me non è arrivata la polizia ancora no no ma abbiamo trovato noi sì ma ci sono tipo 400 di vestiti vestiti di ragazzo binko e ci sono anche in saldo vabbè ci sta dicendo non mi ricordo più cosa che stavo dicendo ah sì che comunque sì sicuramente potrei conoscere delle persone che mi potrebbero far fare dei lavoretti però insomma non deve uscire il mio nome ecco certo va bene cioè non è che qua c'è a due metri la polizia e voi fate il mio nome a parte che non ve l'ho detto nemmeno chi sono però insomma potete fare un identikit a me mi hai detto il nome mi hai detto vabbè un nome ce ne saranno un numero e vabbè la sim prende la butto ho una tua foto beh vabbè poi e allora il nostro il codice sono anche dove abita io so dove voi abitate se la vai lo so beh mi stai dicendo ok comunque il discorso è questo prima di tutto per poter contattare questa persona bisogna avere un codice sul cellulare non so se avete fatto caso ma c'è un'applicazione se voi abita andate su qua al centro dello schermo in basso c'è sono dei puntini un puntino grosso bianco con 6 puntini piccoli sì cliccate lì e a un certo punto avete un'app che si chiama dark chat ma sai che non ce l'ho anche prima ma non ce l'ho ma come non ce l'hai tu ce l'hai io c'ho telefono messaggio contatti instagram impostazioni camera banca borsa fattura ah si dark chat ecco eh ma non mi fa fare niente è tutto schermato nero ok non va qua bisogna creare in qualche modo se non mi ricordo più bene ah tasto destro tasto destro aggiungi un canale ecco vi dovete scegliere un canale un nome che volete voi vabbè allora vabbè comunque ripilogando avete capito mi contattate o vi contatto io perché questo qui è una persona molto potente non è che vai a incontrare chiunque capito però insomma gli è arrivato l'orecchio che c'era un gruppo e mi ha detto di contattarvi però mi raccomando cioè dovete essere dovete essere molto le like like bianche eh va bene ma quando secondo te cioè quando ci può contattare lui vi contatterà o vi contatterò io dipende sempre tramite sta chat cioè non è che si mette a fare una conversazione telefonica non so se avete capito cioè che sotto sorveglianza potrebbe essere il telefono questa è una chat segretissima allora se non rispondo risponderanno loro perché io domani vabbè sì sabato domenica sono off allora ce l'avete tutti attivata sta canale sì sì ecco come spazio io non ce l'ho no ma intendo che se non ci sono io cioè posso andare anche vabbè l'incontro andiamo tutti beh ma chi è il capo della io ecco allora ma allora sono vici comunque cioè non lo so perché a me ha detto che voleva parlare col capo ok ok va bene vuole venire uno di loro fa lo stesso va bene io me ne porto per sicurezza capisci no no non vogliamo tanta gente all'incontro allora vengo da solo vengo da solo da solo e disarmato beh non vogliamo scherzi dobbiamo far capire chi veramente siamo noi non c'abbiamo paura di niente tanto se non lo dicevamo noi lo scoprivate voi ma qua scusa ce l'hai vere e no niente vabbè ragazzi io vi saluto vado ma quello che cos'è è umaniaco vedo che stai toccando con il dito ma scusa ma ne sto facendo così forse più no scusa ma l'aveva sonito no niente va bene eh magari portafortuna toccare di trattengare di questa di manichino 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 avete visto queste sporcherie ora ci sgozza sporcherie sporcherie senza il prendione siamo tutti qua oddio vabbè vi saluto e vi ringrazio va bene grazie a te ciao ciao guarda notte ci sono vorrei che la accompagniamo no grazie tanto abito qui vicino